Un'ampia area di Lammari, finora destinata alla produzione, diventerà zona residenziale. Tra Via del Cimitero e Via San Cristoforo è in programma la costruzione di sei unità abitative ed opere di uso pubblico, tra cui un parcheggio da 14 posti, un marciapiede e un'area verde. È quanto contenuto nel nuovo piano attuativo per il quale è stata firmata la convenzione tra il comune di Capannori e i privati. Nello specifico è prevista la demolizione di due fabbricati ex produttivi dismessi da alcuni anni in stato di degrado e con copertura Ethernet e l'utilizzo della superficie occupata dai capannoni di circa 800 metri quadrati per la costruzione di queste nuove unità immobiliari distribuite in cinque fabbricati. I privati realizzeranno, come detto, alcune opere pubbliche. Da parte sua il comune si occuperà dell'estensione della rete idrica in Via San Cristoforo. Secondo le previsioni, entro un anno i privati dovranno iniziare a realizzare le opere, che poi saranno completate l'anno successivo, contestualmente alla realizzazione dei fabbricati. Quella che era una vecchia area produttiva nel cuore del paese di Lammari diventerà una zona residenziale. Questo grazie ad un intervento di rigenerazione urbana, approvato dal comune ma realizzato ad opera dei privati, che demoliranno i vecchi capannoni alle mie spalle e riconvertiranno il volume in sei unità abitative. Un intervento che sposa gli obiettivi urbanistici del comune di Capannori, di ridurre il consumo di nuovo suolo, di portare fuori dai centri abitati le vecchie aree produttive e di restituire vivibilità e bellezza ai nostri paesi.